In Italia le piccole e medie imprese costituiscono oltre il 95% delle attività produttive. Se pensiamo che solo il 5% di queste ha più di 10 dipendenti, capiamo che questo non è il paese dei grandi stabilimenti e delle grandi industrie, ma l'Italia della grande inventiva, del talento costruttivo, degli artigiani e dell'impresa d'eccellenza. Piccole attività tramandate di famiglia in famiglia, molte conosciute in tutto il mondo. Le PMI sono l'ossatura del sistema produttivo nazionale, non solo per la loro quantità, ma soprattutto per il contributo in termini di occupazione che danno al Paese. Pensate che l'81% degli occupati del settore privato lavora in una piccola e media imprese in Italia. Senza questo settore l'Italia non sarebbe l'ottava potenza economica mondiale e la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Eppure, in tutti questi anni in cui vi ho visto governare il Paese, avete sempre lavorato per affossarle. Ogni provvedimento, a vostro dire, contro la crisi, in questi anni è stato orientato a destinare soldi delle tasse dei cittadini e dei piccoli imprenditori a quel 5% di aziende italiane che pagavano le campagne elettorali. Dalla Fiat di Marchionne all'Ilva dei Riva, dalle centrali a carbone di De Benedetti alle fabbriche di Amianto. Miliardi e miliardi di euro regalati ad aziende che al momento della crisi hanno pensato bene di svignarsela in Serbia, in Turchia e in Polonia, senza restituire un euro dei soldi presi dalle nostre tasse. Mentre i nostri piccoli imprenditori, senza un euro di soldi pubblici, preferivano suicidarsi piuttosto che chiudere battenti e andarsene. È la storia di due Italie, una che fa impresa e l'altra che mangia alla faccia di chi lavora. Come sempre vi siete schierati dalla parte dei vostri simili, dalla parte dei prenditori, quelli che senza soldi pubblici non saprebbero aprire neanche la porta di casa propria. Quella delle aziende dove i sindacati imperano e i sindacalisti non fanno un giorno di lavoro anche da 15 anni. quella che non smette mai di succhiare soldi dagli ammortizzatori sociali, dai fondi per la formazione, dai super sgravi fiscali del vostro inutile Jobs Act e dagli improbabili acquisti dei loro prodotti grazie agli appalti amici. Noi, Presidente, stiamo dall'altra parte, dalla parte dell'Italia che si rimbocca le maniche. E non lo facciamo a chiacchiere. Tagliandoci oltre metà dello stipendio, destiniamo quei fondi alle nuove PMI che vogliono lanciarsi sul mercato italiano. Si chiama microcredito e non esiste un'altra forza politica in tutto l'Occidente che abbia mai fatto quello che facciamo noi. 10 milioni di euro di nostri stipendi destinati in due anni a finanziamenti per piccoli imprenditori che non possono accedere al credito delle banche. Ma facciamo anche di più. Nei comuni dove governiamo abbiamo cacciato Equitalia. Per noi è importante che la riscossione sia coscienziosa. Se tu, imprenditore, non puoi pagarmi 100 euro di tasse, non ha alcun senso che ti invii una cartella esattoriale da 1000 euro dopo sei mesi. Devo metterti in condizioni di pagare, magari con un piano di dilazioni. Equitalia lo fa con i VIP, noi lo facciamo con la gente normale. Inoltre, appena arrivati in Parlamento, abbiamo fatto approvare una legge che blocca le cartelle esattoriali di Equitalia alle imprese che devono avere soldi dallo Stato e chiede alle imprese che delocalizzano in altri paesi come Argentina, Brasile e Sudafrica di restituire i soldi pubblici che hanno incassato dallo Stato, dalle tasse dei cittadini. Sono norme a prima firma Mattia Fantinati della Commissione Attività Produttive. Stiamo attivando centri di assistenza per Equitalia in tutto lo stivale. Abbiamo già contestato con avvocati che lavorano pro bono 3,5 milioni di euro di cartelle esattoriali ingiuste e salvato l'imprenditore Silvio Buttiglione dal pignoramento della sua casa in Abruzzo. Un pignoramento ingiusto. È l'Italia del piccolo imprenditore che lo Stato dovrebbe difendere, quella dell'uomo che è il primo ad arrivare in azienda e l'ultimo ad andare via. È l'Italia dei titolari che pagano lo stipendio prima ai propri dipendenti e poi se resta qualcosa a se stessi. Piccole aziende dove i sindacati servono a ben poco, dove ci si conosce tutti e i problemi li si affronta tutti insieme, anche con scontri duri ma con la consapevolezza di stare lavorando per lo stesso obiettivo, la produttività. A questo tessuto produttivo a cui dobbiamo l'esistenza di un'economia sviluppata in Italia, i governi degli ultimi vent'anni, incluso quello attuale, hanno regalato le peggiori leggi economiche della nostra storia. Prima di tutto, le leggi sulle tasse. Oggi un negoziante in Italia paga il 100% in più di tasse rispetto al 2011, dati della CGA di Mestre, e non smette mai di pagarle, da gennaio con il rinnovo delle certificazioni fino a dicembre con i contributi all'Inps. Balzelli che ogni mese avete imposto alle nostre attività produttive per pagarvi le spese dei privilegi a cui non avete mai voluto rinunciare. Ogni anno una tassa più alta e con un nome diverso, per non far capire che avete aumentato quella dell'anno prima. Per i nostri piccoli imprenditori l'accesso al credito è diventato un miraggio, perché grazie all'Europa gli avete imposto i parametri di Basilea, che gli impediscono di avere finanziamenti dalle banche. Proprio quei colossi bancari che non sganciano un euro alle imprese, nonostante durante la crisi abbiano divorato miliardi di euro di soldi delle tasse versate proprio dagli imprenditori con il sudore della fronte. Quattro miliardi di euro di tasse di impresa le avete versate in Monte dei Paschi di Siena per salvarla e non avete imposto a quella banca di fare credito alle imprese. Sette miliardi di euro regalati alle grandi banche italiane grazie alla ghigliottina della Presidente Boldrini. Banchieri salvi con la pancia piena e imprenditori suicidi o in mezzo ad una strada, con tutti i loro dipendenti. Avete ideato quella follia chiamata studi di settore, che hanno scatenato nel periodo di crisi una raffica di cartelle esattoriali di Equitalia senza alcun senso. Gli imprenditori guadagnano meno di quello che prevede lo studio di settore, perché è un periodo di crisi in cui vendono di meno. Ma lo Stato gli recapita una cartella esattoriale sostenendo che abbia guadagnato troppo poco, insinuando addirittura che abbia evaso qualcosa. La follia, se pensiamo che quei parametri a cui si rifà lo Stato, non sono aggiornati da almeno un decennio. Equitalia è il simbolo delle vostre politiche per le imprese. Strozzinaggio di Stato per spremergli fino all'ultimo euro. Negozianti che non riescono a pagare una tassa di 100 euro, che arrivano tra agi e interessi anche a 3.000 euro in un anno da pagare. Costretti ovviamente a chiudere e a vedersi pignorati tutti i beni. E infine, dopo avergli portato la tassazione effettiva al 51%, dopo avergli sguinzagliato contro Equitalia per costringerli a pagare anche l'Imu sui capannoni e sui terreni agricoli o la tassa sulla tenda. In Italia i negozianti pagano la tassa sulla tenda che aprono davanti alle vetrine per coprirle dal sole. Avete pensato bene di iniziare la lotta all'evasione, ovviamente dalla coda e non dalla testa. Non siete andati a caccia dei grandi truffatori, così da recuperare i soldi per abbassare le tasse. Ma avete perseguitato chi non faceva lo scontrino di 2 euro, mentre i Riva portavano i loro miliardi di euro in Svizzera. Il Palazzinaro, a cui pagavate gli affitti d'oro della Camera, evadeva l'IVA per 10 milioni di euro. I vostri partiti incassavano 2,7 miliardi di euro di rimborsi elettorali senza alcun obbligo di rendicontazione e la Lega portava i diamanti in Tanzania comprati con i soldi, guarda un po', delle tasse pubbliche. Che Stato è quello che riduce le imprese ad evadere o a chiudere? Che Stato è quello che è socio di maggioranza quando le cose vanno bene, chiedendoti il 51% di tasse, e ti abbandona quando le cose vanno male, mandandoti anche gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. È lo Stato governato dai partiti che senza i finanziamenti pubblici avrebbero chiuso da un pezzo, che proprio non riuscite ad immaginare che in questo Paese esistano cittadini che si siano affrancati dalle logiche politico-affaristiche. Gli imprenditori onesti di questo Paese non vi chiedono un appalto, non vi chiedono un finanziamento. Vogliono solo che lo Stato sia corretto e leale nei loro confronti. Vogliono la loro libertà economica nel rispetto delle leggi vigenti. L'impresa rende liberi, ma di un uomo libero voi proprio non sapete cosa farvene. Anzi, spesso vi spaventa. Non gli si può estorcere il voto in campagna elettorale o posti di lavoro per amici degli amici e quindi vi va fatto fallire. L'uomo libero è un uomo pericoloso. Oggi con questa interpellanza porto alla luce del mondo delle imprese italiane un altro fatto increscioso. C'è una legge in Italia, la numero 180 del 2011, che obbliga ogni anno il Governo a presentare al Parlamento una legge per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. È un obbligo che deriva dalla comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 e che chiede allo Stato italiano di aiutare questo settore con misure a tutela della libertà delle imprese. Fu definito Small Business Act e vi imponeva di aiutare il settore della piccola e media impresa. Ma dal 2011 ad oggi lo Stato italiano è in mora. In quattro anni non avete mai rispettato l'obbligo di presentare una legge per, cito testualmente, rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo, sburocratizzare, introdurre misure di semplificazione amministrativa, adottare normi che creano una corsia preferenziale per la piccola impresa. Vorrei parlare di incompetenza. In quattro anni neanche una legge per le imprese nonostante ce lo chiedesse l'Europa. Ma definirvi incompetenti sarebbe offensivo per la vostra intelligenza. Questa è diavoleria. Siete diabolici e non avete presentato questa legge nonostante foste obbligati perché avrebbe significato danneggiare quel mondo dei vostri sodali che con sistemi produttivi fermi al dopoguerra continuano a galleggiare grazie alle leggi ad personam che gli vengono fatte. Mi riferisco a quelle misure con cui si favoriscono ancora le centrali a carbone nell'era del fotovoltaico che tengono all'1% la tassazione sui concessionari autostradali, che mantengono le tasse più basse d'Europa per i colossi del gioco d'azzardo, che drogano il mondo dell'editoria con i fondi pubblici che affossano la banda larga con la lottizzazione di telecom. Ce lo chiede l'Europa vale solo quando dovete approvare la riforma Fornero o quando dovete permettere alle banche di prelevare i soldi dai nostri conti correnti in caso di default. Ce lo chiede l'Europa vale solo quando dovete far morire i vostri amici, mai quando si tratta di aiutare le persone oneste che lavorano ogni giorno chiedendovi solo lealtà. Entro il 30 giugno di quest'anno quella legge, lo Small Business Act, doveva essere già approvata. Siete i primi a non rispettare le scadenze e per questo lo Stato non ha credibilità in questo Paese. La legge in questione diceva che entro il 30 giugno di ogni anno andava presentata questa legge. Non ne abbiamo traccia, ma siccome siete il Governo, siccome è il Governo, nessuno può confiscargli i beni, nessuno può mandargli una cartella esattoriale o mettervi in mora, nessuno può venirvi a confiscare le auto blu o le scrivanie. La messa in mora vale solo per i poveri disgraziati che credono nelle leggi in questo Paese. Ma se una legge non prevede penalità per un Governo che non la rispetta, allora non c'è fretta. Presentiamo il DDL a fine giugno, quando entro il 30 giugno andava presentato. Speriamo di avere la fiducia dei cittadini il prima possibile e di poter governare questo Paese il prima possibile. Non aspetteremo il 30 giugno per fare una legge per le imprese. Noi lo Small Business Act ce l'abbiamo pronto da tempo e nonostante lo abbiamo presentato decine di volte in questo Parlamento, ci è stato sempre bocciato, Presidente. È un'idea di Paese sviluppato in cui si può abolire l'IRAP alle piccole imprese tagliando gli inutili finanziamenti a pioggia. È un'idea di Paese sviluppato in cui permetteremo di versare l'IVA solo a fatture incassate. Esiste la legge ma non esiste la pratica, dove la pubblica amministrazione non usa più carta ma solo modulistica online, dove esiste un solo indice per misurare la tassazione sulle imprese, un indice unico di costo per le tasse alle imprese. Qui nessuno sa quanto paga di tasse e quante ne paga ogni anno, dove lo Stato paga i debiti alle imprese usando davvero Cassa Depositi e Prestiti, non per le beghe interne di Governo ma per aiutare le imprese che devono avere soldi dallo Stato. Perché se non pagate le imprese che lavorano per lo Stato, come potete esigere che le imprese paghino le tasse allo Stato? Dove i 130 miliardi di euro di spese in beni e servizi vengono centralizzati, risparmiando 20-30 miliardi di euro per abbassare le imposte. Dove il codice degli appalti diventa impermeabile alle clientele politiche, eliminando o riducendo fortemente tutti gli appalti senza gara, a partire dalle somme urgenze, dove investiamo nella banda larga per fornire alle imprese nuovi sbocchi di mercato, dove rilanciamo l'edilizia con le ristrutturazioni energetiche, non facendo un decreto in cui ci mettiamo poche decine di milioni di euro, ma miliardi di euro per far ripartire l'edilizia, che è in ginocchio solo nel 2014, lo voglio ricordare, il 70% in meno di concessioni edilizie. Dove i professionisti non devono pagare il noleggio del POS, perché gli è imposto dalla legge e quindi glielo dobbiamo dare gratuitamente, e dove l'IVA ritorna al 20% tanto per cominciare, trovando i soldi, dalla lotta ai maxievasori, cosa che non avete mai fatto, dove la giustizia diventa più veloce, aumentando il numero di magistrati e cancellieri nei tribunali, l'unica cosa che non si è mai fatta negli ultimi vent'anni. È un'idea di Paese dove si governa con le mani libere, dove con le leggi si compie una rivoluzione gentile, senza se e senza ma.